Scusi, che posso parlare dai banco? Canessa! Sì! Perucini! Sono negli occhi! Devi portare a prendere la cosa alla posta! Devi portare a prendere la banca alla posta! Devi portare a prendere la banca alla posta! La posta della banca! La banca alla resta! Come tu! Accidenta è qui! Cane maledetto! Se lo pigli! Perucini! Filatti! Ma è schifoso! Ma è che tu fumi? La MS! Questa è Catallo da MS. Lo dico io! Vi lì! Più leggeri le fumi! Non ci stai senza la mascherina! Mettiti la mascherina! Sshh! Sshh! Non si affano! 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 Che io ti ho detto mettiti la mascherina! Non ci stai vicino! Io non voglio responsabilità! Io sono il giudice non capire tutto guai-lua-lua! Non te lo ridico più, mettiti la mascherina! Lalalalalala, hai azione! Non te lo ridico eh! Canessa, che posso parlare dai banco? Sono da andare alla banca! Allora io te lo ridico, metterò distanza e mascherina! Signor giudice, ma che posso parlare dai banco? Oh, è la ballava a Canessa, è fatto di capretto! Io mi ricordo, vedi? Canessa, signor giudice, posso parlare dai banco? Oh, signor giudice, come io posso parlare con Canessa? Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta! E gli arampelli di figli, gli arampelli di figli di figli, le viano in una busta, la letta e le dice, ma che tu ne fai? O vieni via facciani, ma che non tu me li conosci, signor! Pesca, bellissimo, non mangiare le fai! Voglio la libertà, la banca è la posta! Come io posso parlare dai banco? Silvia perché lo fai? Perché ti fai? Marco lo sai, Silvia si è ancora! Silvia si è ancora da Marco! Signor giudice, che posso parlare dai banco?